Ciao a tutti ragazzi con Board of Conscious e direi finalmente benvenuti in questo lunghissimo video. Lo so, effettivamente credo che molti di voi si saranno aspettati un video appunto ringraziamento per come è stato questo 2020, perlomeno come è stato questo 2020 per quanto riguarda il canale. Perché c'è stato un periodo nel 2019 dove ero bloccato a 330 iscritti e di me di alcuni video facevano tipo 70-80 visual. Dopo, con varie collaborazioni e soprattutto con il supporto vostro, dopo la fine del canale ha avuto risultati più che sufficienti devo dire. Oddio, c'è stato un periodo dove gli unici video che perlomeno intrattenivano il pubblico sul mio canale erano soltanto video di cosa pensano i rap ritenali su Eminem, che molti continuano a scrivermi per quanto riguarda il fatto che è un video off topic. È un video effettivamente che non c'entra un cazzo col canale, dato che tu hai sempre portato top 10, in cui tu, diciamo, portavi ciò che ti piaceva. A parte il primo video che appunto dava una presentazione di com'era il vecchio canale, ancora prima di aprire questo nuovo qua che si chiama World of Conscious, che il vecchio canale l'avevo stoppato, l'ho detto tantissime volte, però lo ribadisco se per caso motivo in, non sappiano com'è andata la storia col vecchio canale. Mi ero formato 330 iscritti. Se volete andare a vedere nella video reaction, vedrete il numero massimo di iscritti che avevo ottenuto in quel periodo, ovvero 330 iscritti. Poi alla fine ho deciso di abbandonarlo per il semplice fatto che i gameplay e soprattutto non mi divertivano, diciamo, cioè non mi divertivo come poi alla fine mi sarei veramente voluto divertire. Poi alla fine ho aperto questo nuovo canale che a livello di contenuti, ma allo stesso tempo anche nel modo di parlare, di esprimermi su qualcosa. È molto molto meglio rispetto a quell'altro. Ma anche grazie a voi che soprattutto supportate anche i video più recenti, perché ho visto che i video più recenti sono arrivati a quasi 200 visual, tratto quello là con Angelo è arrivato praticamente a quasi 250 visual, cosa che nei video vecchi non succedeva. E quindi, chissà, probabilmente quando pubblicherò gli ultimi tre video su questo canale, probabilmente faranno un bel po' di visual. Peraltro ho visto anche che c'era molta partecipazione nel video di... dove io parlavo di... Oddio, qual era? Sì, come sarebbe stato il disco di Sarebasta? Cosa contenesse? Soprattutto il singolo in questione che l'annunciava. Ovvero bottiglia breve, ho visto che c'era molta partecipazione, sia a livello di like, di commenti, di visual ovviamente. E quindi vi ringrazio anche per questo. E devo ringraziare anche quelli che mi hanno anche supportato, i collaboratori che mi hanno supportato, che addirittura... Io ricordo che il video con Luca, che ormai anche lui è diventato un collaboratore del canale, della mia community in generale, diciamo, dove inizialmente il video con lui era tra i video meno popolari del canale, che quando era uscito per la prima volta in meno di 24 ore ha totalizzato 69 visual, se non sbaglio. Invece in questi ultimi giorni è arrivato a visual che veramente non mi sarebbe mai aspettato. È arrivato a quasi 150 visual. Quindi mi fa capire effettivamente i motivi che sono iscritti a questo canale, che mi hanno seguito per quei video più popolari. Prima di tutto non ci saranno tagli in questo video, dato che è soltanto un video dove io appunto vi ringrazio di come è andato questo 2020. Per quanto ricorda l'anno in generale di fuori di internet è andato una merda, sicuramente per molte persone per quanto ricorda il covid-19 ovviamente, ma ormai sappiamo tutti poi alla fine come è andato avanti questo 2020 e soprattutto come è iniziato, soprattutto come finirà proprio oggi. E appunto vi volevo dire che grazie che avete supportati sia i video vecchi, dopo quelli che sono stati i miei 5-6 video popolari del canale, quindi vi ringrazio, che prima quei video ovviamente avevano praticamente la stessa media di visual, delle visual che faceva il vecchio canale. Oddio, c'erano video del vecchio canale dove addirittura arrivavano a 500 visual. 500 visual ma semplicemente perché appunto creavo hype riguardo quell'episodio. Soprattutto il mio canale si basava principalmente su una serie che poi alla fine è diventata canonica sul mio canale soprattutto che mi ha debuttato, non questo canale mi ha debuttato, ma mi ha debuttato un'altra serie che ha fatto tantissime visual. Quei video che diciamo facevano meno visual erano quelli dove io mi soffermavo di più in quel momento. che i video che facevano meno visual se non sbaglio erano appunto la serie dei classici di Sonic. Appunto giocavo a Sonic 1, 2, CD, 3D Blast, Sonic 3 Knuckles per poi arrivare a Sonic Adventure. E quella serie è là, mi ha debuttato su YouTube. Avevo iniziato prima con Sonic Adventure però ho pensato voglio riprendere Sonic per continuare dalla storyline. Quindi abbandono un po' Sonic Adventure, mi sposto sui classici, li finisco, torno su Adventure e quando io tornavo su Adventure facevo tipo 200-300 visual. Quindi devo anche tutto anche per quella serie. Dopo quando io ho fatto il nuovo canale e dopo che appunto ho dato notizie alla mia community che ho aperto questo nuovo canale, dopo alla fine si sono riscritti e hanno continuato a seguirmi. mi servivano di meno ovviamente per il fatto che uno diceva non sei più quello di prima, ti seguivo quando tu portavi video su Sonic. Adesso io porto video un po' di tutto, un po' di tutto. Diciamo che questo canale già dal titolo mondo della conoscenza, World of Conscious, appunto perché io voglio portare il pubblico a conoscere cose che probabilmente non conosceva. Faranno poche visual ma probabilmente col tempo queste persone capiranno il mio canale. Probabilmente lo capiranno probabilmente quello che sarà il mio grandissimo periodo di inattività. Spero che molti di voi lo capiranno che il mio non è un canale di freebooting. Assolutamente no. Perché in realtà sotto in descrizione c'è il mio canale di freebooting quindi sotto in descrizione si chiama Best of Tube dove ricarico sia Best of di alcuni YouTuber ma sia Best of miei su Twitch. Quindi passateci. Il punto della situazione è Bond 2021. Bond 2021 e questo qua sarà l'ultimo video del 2020. O meglio è l'ultimo video del 2020 dato che appunto io sto registrando il 31 che appunto questo qua alle 4 e mezza se non sbaglio, sì. Che pubblico probabilmente gli 8 a 10 minuti prima di mezzanotte perché a mezzanotte quando scoppia scoppia tutto quanto si fa festa si festeggia al 2021 dopo la gente ovviamente non vede il video quindi lo sto registrando. In questo momento su Instagram ovviamente vi farò vedere come noi abbiamo festeggiato l'inizio del 2021 ovviamente servitemi anche su Instagram la pagina di Instagram ovviamente la trovate in descrizione o nel banner del canale sì l'ho tolto semplicemente perché ho avuto dei problemi per conto di guardare la gestione degli account quindi per un bel po' sono stati inattivo su quei social sia anche perché dovevo fare ovviamente quelli che erano i doverosi compiti delle vacanze infatti ho detto anche in quel video là che ovvero il video uscito prima di questo quindi andatevelo a recuperare dove appunto parlavo sia di problemi in famiglia sia problemi importanti di fuori sia di internet e della famiglia ovviamente problemi personali che non voglio esporre al pubblico ma dico soltanto che sono problemi personali ma il frutto della questione è buon 2021 spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo a quelli che saranno gli ultimi o meglio i primi tre video del 2021 e probabilmente anche gli ultimi se non gli unici i video del 2021 ma comunque vi ringrazio per il supporto che voi avete dato sia al canale a questo nuovo canale dall'estate del 2019 fino ad oggi l'ultimo giorno del 2020 ciao ragazzi e grazie anche per aver supportato i video più recenti del canale buon anno